Una società senza soldi, una squadra senza stipendi, un fallimento che diventa una festa. La storia della squadra che sfiorò il miracolo e della città che se ne innamorò. Se anche per voi la serie B può diventare un mondiale, se non volete smettere di credere all'impossibile, se avete sentito parlare del priscio ma non sapete cosa sia, questo è il film che aspettavate. Una meravigliosa stagione fallimentare. Dal 29 gennaio al 5.